Ho intrappolato questo mio amico in una gabbia di bedrock alta 19 blocchi, se riuscirà ad uscire vincerà 100€. Ha a disposizione una fornace, una crafting table, 6 blocchi di sabbia e 4 scalette. Ha fatto un po' di tentativi, ha provato in più modi diversi, ma alla fine non ce l'ha proprio fatta e si è arreso abbandonando. Ma la soluzione era molto semplice, cuocere con le scalette tutta la sabbia e creare i pannelli. Poi prendere la crafting, metterla sopra la fornace e iniziare a fare tutto un pillar. Una volta raggiunta la superficie, fare un bel clutch con la bacca.